Il Consorzio di Tutela Vini di Valtellina traccia il bilancio del 2023. L'annata vidicola è stata caratterizzata da un andamento meteorologico del tutto anomalo rispetto a quello degli ultimi anni, con temperature sensibilmente inferiori alle medie, specie nei mesi da aprile a giugno e precipitazioni abbondanti nel periodo primaverile, ma anche a luglio e fine agosto. Il mese di luglio è stato interessato dal Grandinate, che in diverse date hanno colpito quasi tutto il versante vitato a esclusione dei vigneti compresi tra la Valgella e Tirano. La sottozona sassella è stata colpita più riprese, determinando un calo quantitativo importante. Nel mese di agosto la situazione è cambiata rispetto all'andamento precedente, perché le temperature si sono alzate sensibilmente, raggiungendo valori massimi di 38-39 gradi. In questa fase, in diverse situazioni, si è osservata una certa sofferenza dei vigneti. Verso la fine di agosto la situazione è però cambiata e le precipitazioni hanno avuto un effetto molto positivo sulle piante, perché hanno interrotto la fase molto calda di metà agosto e hanno consentito la ripresa dell'attività fisiologica della vite. Il mese di settembre 2023 è stato caldo e la situazione è rimasta praticamente modificata, fino alla metà di ottobre, determinando una prosecuzione dell'attività fotosintetica delle viti, fino a stagione avanzata, consentendo di raggiungere una maturazione ideale sia a livello polifenolico, sia di zuccheri, ma soprattutto, il dato molto interessante, è rappresentato dalle elevate acidità che non sono crollate, come nelle annate con l'estate più calde. Le operazioni vendemmiali sono iniziate tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre e si sono praticamente concluse entro la terza settimana del mese, evitando le piogge che sono cadute copiosamente nell'ultima settimana. Per quanto riguarda lo sforzato, le operazioni di pigiatura sono state anticipate di dieci giorni rispetto alla media a causa delle condizioni climatiche calde e secche della prima parte del mese di ottobre che hanno accelerato le attività di appassimento.